Benvenuti al nostro primo webinar, vediamo anche la data, oggi è 24 aprile e abbiamo subito una presentazione che condividerò con voi, questa presentazione ci occuperemo di capire meglio come funziona la struttura narrativa, più che di teoria, più che teoricamente analizzeremo la cosa da un punto di vista pratico, operativo, cioè attraverso esempi, diciamo però anzitutto che una struttura narrativa è senza dubbio caratterizzata da tantissimi elementi, ma non possono mancare due ingredienti, le due C, il conflitto, il conflitto è fondamentale, è il conflitto che determina, che proprio agisce come causa, che produce la dinamica narrativa, cioè che mette in movimento la storia, se non ci fosse conflitto, se Capucetto Rosso non andasse mai nel bosco con il cestino in cui ha il cibo per la nonna e incontrasse il lupo, non succederebbe niente, Capucetto Rosso attraverserebbe il lupo, arriverebbe dalla nonna e tutto finirebbe senza mai essere iniziato, non ci sarebbe una storia come siamo abituati a considerarla. Quindi il conflitto è fondamentale, naturalmente esistono svariate tipologie di conflitto, il conflitto può essere tra il protagonista e se stesso, pensiamo quando l'eroe o protagonista deve fare una scelta, una scelta conflittuale perché non sa bene cosa scegliere, oppure con un antagonista, lo sappiamo. Quindi avremo il nostro eroe che ha un movente e vi è un ostacolo, come ho scritto qui, per meglio articolare in che cosa consiste il conflitto, un ostacolo da affrontare. Se andiamo avanti e usiamo la rappresentazione visuale di una storia, vediamo che tutto inizia proprio quando si manifesta un certo problema, è qui che si ha la chiamata all'avventura e si esce dalla vita quotidiana, altrimenti si rimarrebbe nella vita quotidiana ordinaria, nulla accade se non la solita routine. Il conflitto qui è espresso in varie modalità, può essere una domanda che si pone al protagonista, un dilemma da risolvere, può essere un'opportunità, un'occasione che gli si prospetta, oppure una vera e propria sfida, un obiettivo da raggiungere, come nel caso di Capucetto Rosso. E' qui che abbiamo l'esordio, la prima parte l'esordio, la seconda parte lo scioglimento e diciamo che la terza parte nel modello a tre atti, o a tre parti, è quella che sto evidenziando con il puntatore laser, è lo svolgimento, appunto abbiamo detto, in cui abbiamo un climax, il climax è il momento culminante, per esempio in Capucetto Rosso possiamo avere anche più di un climax naturalmente, in Capucetto Rosso è quando magari Capucetto Rosso dialoga con la nonna che in realtà è il lupo, quello forse è il climax. Bene, torniamo indietro, scusatemi, vediamo, adesso vedete anche voi, vediamo il secondo ingrediente. La seconda C, il cambiamento. Tutte le storie, a meno che non siano estremamente banali, implicano una trasformazione del protagonista, una metamorfosi. Questa immagine che ho messo rappresenta il bruco che si trasforma in farfalla. La metamorfosi può essere proprio anche esteriore oppure può essere interiore. Capucetto Rosso, quando tutto si risolve per il meglio, non per il lupo, ha imparato che deve obbedire alla mamma e che non deve prestare ascolto agli estranei che incontra. Anzi, a questo link trovate un'altra cosa. E quindi c'è sempre una trasformazione dell'eroe, vado avanti, vedete che qui abbiamo una freccia che rappresenta proprio questa crescita attraverso il conflitto che l'eroe affronta le sue paure, affronta le sue difficoltà, le supera e in questo modo cresce. Quindi quando la vita riprenderà con lo scioglimento non sarà più lo stesso. Bene, questo era abbastanza semplice e quindi teniamo a mente questi due punti. Qui vi ho messo un link a un articolo relativamente chiaro, molto sintetico, che affronta il problema di individuare le caratteristiche della struttura narrativa. Io do un attimo un'occhiata alla chat, spero che stiate seguendo, fate pure domande, io vado anche sulle domande. Bene, andiamo avanti, lasciamo perdere questo e anche questo e veniamo a quello che è interessante. Oggi io vorrei proporvi di imparare a conoscere i meccanismi della struttura narrativa, meccanismi che in realtà già conosciamo perché insomma di storie e in vari formati e in vari media ne abbiamo ascoltate, sentite, viste centinaia, però appunto riflettere, esplicitare i meccanismi attraverso degli esempi. Le ultime nozioni teoriche sono quelle di fabule e di intreccio, per spiegare il concetto che voglio usare è quello di variazione della storia, per capire come funziona una storia proviamo a variare i suoi ingredienti. Ebbene, prima di tutto però dobbiamo tenere a mente cosa si intende per fabule e per intreccio. La fabule è la struttura della storia nella quale gli eventi sono riportati secondo il loro ordine logico e cronologico e quindi rappresenta l'ordine degli eventi causale o logico, cronologico, tutti questi ordini insieme. L'intreccio invece è il modo in cui viene raccontata la storia. Io posso raccontare la storia di Capucetto Rosso cominciando dal momento in cui incontra il lupo, oppure posso cominciare la storia di Capucetto Rosso con un flashback Capucetto Rosso che racconta alla mamma, per esempio quello che è successo, cioè non sto seguendo l'ordine cronologico. Quindi un conto è quella che è l'ordine con cui si sono effettivamente svolti gli eventi, altro è il modo in cui io li racconto. Sì, vedo che qualcuno chatta. Pronto? Prova, prova. Sì, a me risulta che la connessione audio funziona. Bene, continuo quindi. Dicevo, fabule intreccio quindi non coincidono. Ecco, proviamo adesso a utilizzare il sistema di variazione, in questo caso dell'Incipit, per vedere come funzionano questi meccanismi. io vi propongo Capucetto Rosso, che è una favola che tutti conosciamo, una fiaba che tutti conosciamo, non è una favola, dei fratelli Grimm. Qui trovate una traduzione italiana della fiaba di Capucetto Rosso e la traduzione di Collodi. È interessante perché Collodi fa finire la fiaba con Capucetto Rosso divorata dal lupo. Non c'è un cacciatore, non traduce la parte del cacciatore che viene a liberarla perché vuole ammonire le bimbe a non prestare ascolto agli sconosciuti. Quindi è una variazione di Explicit del finale. Cominciamo con le tipologie di Incipit, cioè l'Incipit, quindi l'avvio della storia, l'esordio. Abbiamo tre tipologie fondamentalmente, che valgono in tutte le narrazioni cinematografiche, letterarie, nelle fiabe. Quello che potremmo chiamare l'Incipit tradizionale, in cui l'ordine della storia, quindi la fabola, corrisponde all'intreccio. La storia viene raccontata, cioè seguendo l'ordine o logico, cronologico o causale degli eventi. Capucetto Rosso, per esempio, è una fiaba di questo tipo. Una prima variazione può essere quello che viene chiamato l'Incipit, con un'espressione latina e medias es. Qui trovate un link che vi porta alla definizione, ma insomma è abbastanza semplice. Basti pensare all'Odissea, che comincia proprio nel mezzo delle cose, quando Ulisse si trova nella terra dei Feaci, se non sbaglio, non vorrei adesso dire stupidaggini, quindi inizia nel mezzo delle cose, il racconto. Infatti Ulisse poi racconterà quello che è accaduto prima con un lungo flashback. Questo può essere un esercizio utile, prendere una storia e proporre ai nostri studenti, grandi e piccoli, di modificare l'Incipit. Per esempio, di iniziare a raccontare la storia, non dall'inizio, ma per esempio da quando Capucetto Rosso incontra il lupo, da quando Capucetto Rosso comincia a bussare, come ho fatto io in questo esempio. Capucetto Rosso bussò alla porta della casa della nonna e quindi la riraccontiamo in questo modo. Un'altra possibile variazione è l'Incipit a posteriori, in questo caso abbiamo un'inversione totale, come dicevo anche prima, il racconto comincia dalla fine con un lungo flashback, per esempio. Io qui come esempio ho scritto, ma anche questo è un esercizio che si può proporre, provate a variare, un gruppo varia l'Incipit adottando l'Incipit in medias res, un altro gruppo di ragazzini, di bambini, invece utilizza l'Incipit a posteriori. Io qui ho scritto come esempio, Capucetto Rosso ormai vecchia racconta ai suoi nipotini la storia di quella volta che incontrò il lupo. Chiaramente Analessi è la figura retorica che corrisponde al flashback. Quindi è molto interessante già variare l'inizio della storia e già qui abbiamo una serie di conseguenze che cambiano il nostro racconto. Vediamo adesso l'opposto, l'EPN è vissero felici e contenti, quali sono le tipologie di finale? Bene, in Capucetto Rosso abbiamo un finale tradizionale, il finale cioè chiuso, la storia si risolve, nessun problema rimane aperto, nessuna linea narrativa rimane aperta. Invece possiamo avere, almeno ne abbiamo tanti in realtà, ma insomma riducendo a quelli più usati, più noti, possiamo avere un finale aperto. Possiamo avere un finale aperto quando? Quando per esempio chi racconta la storia, il film, il romanzo, il racconto, lascia aperte alcune linee possibili, linee narrative possibili, perché magari vuole che sia il lettore a dare la sua interpretazione. Oppure perché, come spesso capita, come ben sappiamo, nei serial, negli sceneggiati, eccetera, ormai si prevede sempre un sequel e quindi si lascia in sospeso qualche filo narrativo in modo da poter poi riagganciarsi nel sequel alla storia. Ecco, si potrebbe per esempio immaginare, continuiamo con, chiedo scusa, con i finali, poi c'è il finale a sorpresa, questa ho messo anche l'espressione inglese, insomma, e qui ho messo un link dove fa degli esempi di film con finale a sorpresa. In questo caso è sempre la conclusione va contro le aspettative dell'ascoltatore, cioè è l'effetto sorpresa finale, insomma, in cui si cerca, appunto andando contro le aspettative dell'ascoltatore di sorprenderlo, di spaisarlo, di colpirlo. Cliffhanger è un tipo particolare, Cliffhanger sono quei finali dei film in cui la storia si interrompe bruscamente con un colpo di scena, il cliffhanger è quando c'è lo scalatore appeso alla roccia, sospeso in un baratro che sta per precipitare, questo è un troppo proprio che fa riferimento a questa situazione, come dire, alpinistica. Quindi la storia finisce con un colpo di scena, per esempio Game of Thrones, i miei alunni lo guardano qualche volta anch'io, non mi ricordo quale serie finiva col protagonista Jack Snow che veniva ammazzato nell'ultima scena, nell'ultima sequenza, proprio nell'ultima inquadratura, anzi dell'ultima puntata della serie moriva il protagonista, era un colpo di scena. Vediamo come si possono utilizzare questi, qui vedete il lupo che è questo bel giovinotto e Cappuccetto Rosso che lo sta baciando. Ecco, possiamo proporre ai nostri studenti di prendere una storia, una storia magari già nota, già conosciuta come Cappuccetto Rosso e aprirla, cioè ricostruire il finale in modo da lasciarlo aperto, per esempio il cacciatore apre la pancia del lupo, scritto qui, ma il lupo non c'è, chiedo scusa, ma Cappuccetto Rosso non c'è nella pancia del lupo, nemmeno la nonna, oppure il lupo dopo che viene, gli viene aperta la pancia, in qualche modo riesce a scappare e merita vendetta, un po' come John Snow che viene trapassato da mille spade eppure poi risorgerà nella serie successiva. Oppure possiamo proporre un finale a sorpresa, di scrivere magari individualmente in gruppo, incaricare i nostri studenti, di riscrivere il finale scrivendolo a sorpresa, per esempio, possiamo, non so, io qui ho scritto, il lupo non ha mangiato, la nonna è Cappuccetto, in realtà il cacciatore è un serial killer di cuccioli, cui il lupo sta dando la caccia, gli ha teso un agguato, il lupo è d'accordo con la nonna, insomma possiamo inventarci un finale a sorpresa come vogliamo, oppure Cliffhanger, il finale coincide con un colpo di scena, a letto c'è davvero la nonna che finge di essere il lupo, travestito e uccide Cappuccetto Rosso, oppure Cappuccetto Rosso si innamora del lupo, insieme uccidono la nonna, possiamo divertirci a cambiare i finali con ogni favola, con ogni storia, con ogni fiaba ed è molto divertente perché emerge anche la personalità, la creatività del ragazzo, dello studente, ma seguendo delle regole e questo è molto importante, la creatività assoluta come assenza di regole è il deserto, non si riesce a costruire niente, la creatività nasce nel momento in cui mescoliamo i nostri gusti, la nostra personalità con le regole e giocando con le regole, però prima dobbiamo conoscere, prima di giocarci, dobbiamo conoscere queste regole. Bene, andiamo avanti, qui tutto sembra regolare e do un attimo un controllo, sì, ci sono tante altre possibilità narrative e tante altre variabili nella struttura narrativa che possiamo modificare per giocarci, prendere un esame adesso, quelli che ho chiamato e che alcuni chiamano gli spazi narrativi, sono quelle possibilità, possibili linee narrative potenzialmente presenti in una storia, ma che non vengono raccontate, che sono trascurate perché la storia va in altre direzioni, quindi possibilità narrative derivanti da quelli che sono degli spazi o dei tempi che nella storia non vengono esplicitati, oppure che nascono o nascerebbero raffrontando, confrontando, rapportando l'universo narrativo della storia, che so di Cappuccetto Rosso all'universo narrativo di un'altra storia, che so i Puffi. Vado avanti. Bene, facciamo qualche esempio per capire cosa sono questi spazi narrativi, Antol Stories li chiamano anche, cioè storie non raccontate. Per esempio, chi era e cosa faceva la mamma di Cappuccetto Rosso? Chi era il suo babbo? O prima di incontrare Cappuccetto Rosso il lupo, che faceva? Quali altri animali vivono nella foresta? Cosa sarebbe accaduto se Cappuccetto Rosso avesse incontrato i Puffi prima di incontrare il lupo? E se il lupo fosse stato Wolverine? O se Cappuccetto Rosso, attraversando il bosco, finisse nel bosco di Biancaneve? Insomma, come vedete, ci sono tante possibili storie, in realtà, che noi, giocando, possiamo esplicitare. Sullo sfondo, l'ho reso un po' trasparente, si vedono i protagonisti di C'era una volta, un serial, che è stato trasmesso, non so se sia ancora in trasmissione, che alcuni mie alunni guardavano, in cui tutti i personaggi delle fiabe vivono, si sono reincarnati, per così dire, vivono in una cittadina degli Stati Uniti, non si ricordano chi sono, ma c'è Robin Hood, c'è Pinocchio, c'è la regina cattiva, c'è Biancaneve, c'è Cenerentola, eccetera, eccetera. E quindi sono tutti mescolati insieme gli universi narrativi che fanno riferimento a questi personaggi. Bene, vediamo le variazioni, scusa, non vorrei aver saltato niente, vediamo le variazioni più ovvie, il prequel e il sequel, cioè ciò che viene prima e ciò che viene dopo la storia che abbiamo raccontato, che stiamo raccontando. Ulc da bambino e Ulc vecchio. Ovviamente sapete già che per prequel si intende ciò che accade prima di una storia data, io ho scritto, cioè della storia che abbiamo raccontato, è ciò che accade il sequel dopo la storia. Cos'era successo prima che la mamma avesse a capucetto il cestino con la focaccia e il vino per la nonna? Cosa succede dopo che il cacciatore scuia e il lupo? Ma ci sono altre interessanti variazioni possibili. Sono il sidequel, spero di pronunciare bene, sono sicuro che lo sto pronunciando bene. Cos'è il side? Side, penso voglio dire una narrazione che si sviluppa in modo parallelo a quella di una certa storia, mentre il midquel sono vicende che si svolgono dentro la storia, per esempio dentro l'universo narrativo di Cappuccetto Rosso, che non sono state raccontate. Vediamo di fare degli esempi che forse così sono più chiaro. Prendiamo l'esempio di un midquel prima di tutto. Ecco, mentre Cappuccetto Rosso sta parlando con il lupo, la mamma cosa sta facendo? Potremmo fare una storia in cui raccontiamo cosa fa la mamma mentre a Cappuccetto Rosso accadono tutte queste cose. E sarebbe un midquel, qualcosa che nella storia non viene raccontato. Un sidequel potrebbe essere nella tana del lupo, i cuccioli, i cuccioli del lupo scappano, si perdono nella foresta dove incontrano il figlio del cacciatore e stiamo raccontando una storia parallela, insomma. Quindi insomma, midquel, sidequel, comunque sia, si tratta di storie che non sono narrate ma che sono potenzialmente contenute nell'universo narrativo. Naturalmente prequel e sequel, gli esempi possono abbondare. Io qui ho scritto, per esempio, la mamma e il babbo di Cappuccetto si incontrano e poi decidono di lasciare la casa della suocela, della mamma, per vivere da soli. Oppure il sequel, Cappuccetto Rosso torna a casa e non trova più la mamma. Cosa è successo? E lo raccontiamo. Anche questi sono esercizi possibili. Possiamo chiedere ai bambini, ai ragazzi di prendere una storia, in questo caso io ho scelto Cappuccetto Rosso, e di raccontare queste cose. Cosa succede prima, cosa succede dopo, cosa succede durante, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un esercizio che può essere interessante. Altre variazioni che possiamo usare per abituare i ragazzi quindi a sperimentare, giocando con le regole della narrazione, sono il riavvio, io lo dico in italiano, il riavvio, in questo caso cos'è il riavvio di una storia? Il riavvio di una storia è quando noi manteniamo gli stessi personaggi, manteniamo la stessa location, ambientazione, setting, usate il termine che preferite, quindi la foresta, la casa della mamma e la casa della nonna, ma raccontiamo la storia da capo, in un modo completamente diverso. Per esempio io qui ho scritto Cappuccetto Rosso è una bambina molto cattiva, prepotente testarda, il lupo invece è timido, un po' imbranato, il cacciatore è uno spietato killer, è l'amante della nonna, ecco, la stiamo raccontando da capo. I personaggi sono gli stessi, anche se ne abbiamo cambiato il carattere, l'ambientazione è la stessa, ma la storia è praticamente un'altra. Anche questo è divertente da fare. Poi c'è lo spin-off, non saprei darvi una traduzione italiana, ma è molto semplice. Lo spin-off sono quelle storie che noi otteniamo quando prendiamo, molto utilizzata nei serial, per esempio in Lost e in tanti altri serial, quando noi prendiamo un personaggio secondario di una storia, che sono la mamma, la nonna, il cacciatore, se supponiamo che i protagonisti siano Cappuccetto Rosso e il lupo, prendiamo un personaggio secondario e ne facciamo il personaggio principale di una nuova storia. Io qui per esempio ho scritto, questo è un esercizio carino, raccontate chi era il lupo, dove viveva, cosa faceva, chi era il cacciatore, io ho scritto la mamma di Cappuccetto Rosso, prima abbandona la figlia, va a vivere in città, hai il sogno di lanciare una linea di moda di mantelline colorate per bambini e molla tutto e se ne va. Questo è uno spin-off incentrato sulla vicenda della mamma. Un altro tipo ancora di variazione che possiamo usare è il what if, che cosa accadrebbe se l'ho tradotto. È un'ipotesi narrativa che nasce contaminando universi narrativi differenti, io qui per esempio ho messo nello sfondo tutte le eroine Disney, manca l'ultima come si chiama Vaiana, ma insomma le altre ci sono tutte, mi pare o quasi, tutte le eroine Disney messe insieme. Ecco, cosa accadrebbe se per esempio Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, eccetera, si incontrassero e decidessero di creare una sorellanza segreta per eliminare i rispettivi principi, padri, re, eccetera, insomma i rispettivi maschi che le tengono assoggettate al loro volere, per esempio, insomma una reinterpretazione in chiave femminista delle principesse Disney potrebbe essere una cosa, ma insomma sono infinite, basta prendere due storie differenti, prima ho preso i Puffi, ho detto è Cappuccetto Rosso, Cappuccetto Rosso e Biancaneve, Biancaneve, Guerre Stellari, insomma possiamo inventarcele, inventarcele tutte e anche questo può essere un esercizio molto carino da far fare, far fare agli studenti e ai bambini. Naturalmente potremmo anche per esempio decidere di fargli raccontare una loro storia, una storia loro realmente accaduta e poi il what if lo potremmo realizzare dicendogli immagina adesso di collegare la storia che è raccontato con una fiaba o con una di queste storie, insomma abbastanza note. Procedo, ho quasi finito, terminiamo con il punto di vista, il punto di vista è molto importante, però qui mi fermerei un attimo, pregherei anche Massimo di dare uno sguardo alla chat per vedere se ci sono domande, io vedo che qui c'è un modulo domande, ma è molto piccolo, quindi se avete domande fatele pure, io posso rispondere, oppure Massimo può interrompermi quando vuole, se legge delle domande e io cercherò di rispondere, vediamo, no, non vedo niente, non ne vedo domande e quindi io direi che continuo a, continuo sì, sentono tutti, aspettate sto cercando di allargare il modulo domande ma non ci riesco, va bene, pazienza, ecco, continuo, prego sempre Massimo di tenere d'occhio lui, dunque continuo con il punto di vista, qui ho messo molto bellina questa immagine sulla destra, come cambiano le cose a seconda del punto di vista da cui le guardiamo, questa immagine è abbastanza semplice a spiegare, la fonte luminosa sta qui e proietterà un cerchio sulla parete, mentre la fonte luminosa in questo punto proietterà un quadrato, un rettangolo, quindi qualcosa di completamente diverso e nessuno dei due casi di corretto, diciamo, che corrisponde realmente al nostro oggetto, quindi il modo di guardare le cose, cambiando il modo di guardare le cose, in questo caso il punto di vista, cambiano le cose, questa è la famosa figura di Boring, mi pare, no, Boring, quello è lo stretto, Boring, in cui, poi provateci, si possono vedere, era una figura che utilizzavano gli studiosi della Gesta, gli psicologi strutturalisti, per studiare la percezione visiva, questa è un'immagine ambigua, perché si possono vedere o una vecchia donna o una giovane donna, è un po' complicato adesso spiegare come funzioni, ma la giovane donna, vedete, questa è la piuma che ha nei capelli, questi sono i capelli della giovane donna, questo è l'orecchio, la gota, la guancia, questo è un ciglio, il nasino e questo è un nastro che ha il collo e questo è il collo della giovane donna e la pelliccia, ma c'è anche una vecchia strega, guardate, osservate, questo è il nasone della strega, questa è la bocca della strega, questo è il mento adunco della strega e così via, quindi è molto interessante perché la stessa figura, perché non cambia la figura, cambia solo il nostro modo di interpretare la figura, di leggerla, la figura è la stessa, eppure noi vediamo due cose e due cose opposte, quindi è interessante lavorare sui punti di vista, vediamo per esempio, qui vedete un'immagine che ho messo, che cambia un po' tutto, cosa si intende per punto di vista? Bene, il punto di vista può essere o interno o esterno prima di tutto, cosa vuol dire? Vuol dire che la voce narrante può coincidere con uno dei personaggi, oppure esterna, chi narra è una figura esterna al racconto, ad esempio nel modo tradizionale in cui il cappuccetto rosso viene narrata, abbiamo il tipico narratore esterno a focalizzazione zero, cioè onnisciente, che cos'è la focalizzazione? La focalizzazione si sovrappone un po' alla distinzione che abbiamo fatto prima tra narratore interno ed esterna, tra voce narrante, chi lo scusa, interna ed esterna, parliamo di focalizzazione interna quando il narratore ne sa quanto il personaggio, per esempio io racconto, riracconto la storia di cappuccetto rosso dal punto di vista di cappuccetto rosso, stavo attraversando il bosco quando ad un certo punto vi è uno strano animale, molto brutto, che mi si fece incontro e io ne so quanto cappuccetto rosso, all'inizio non capisco neanche che è un lupo, mentre nella storia tradizionale il narratore è un narratore onnisciente. La focalizzazione può essere esterna, il narratore può essere esterno ma non essere onnisciente, ne sa anche meno dei personaggi, il narratore racconta quasi fosse un testimone di quello che succede e quindi non sa neanche quello che pensano i personaggi, mentre il narratore interno, la voce narrante interna, la focalizzazione interna è il personaggio stesso e quindi i suoi pensieri, i suoi desideri li conosciamo per sua stessa voce, quindi come vedete è interessante, si potrebbe per esempio assegnare a ciascun membro di un gruppo, premio di una classe, il punto di vista di uno dei personaggi, di cappuccetto rosso in questo caso e dirgli di raccontare la storia da quel punto di vista, dal punto di vista del cacciatore che interviene solo alla fine, dal punto di vista del lupo, della mamma, della nonna e così via e poi magari assemblare le varie versioni in formato audio per esempio e presentarle come episodi di una sperimentazione, di un racconto sperimentale su cappuccetto rosso, naturalmente questo poi si può fare con tante altre storie. Bene, direi che se non sbaglio la mia presentazione è terminata, quindi vi chiederei se ci sono domande, mi sembra di no, chiedo conferma a Massimo, Massimo mi senti? Io non vedo domande. Sì, ti sento, ho risposto a una domanda sullo spin-off. Ah perfetto, grazie, ti ringrazio. Comunque le domande se non vi vengono subito, se non la volete fare subito, potete anche postarle su Edmodo. Bene, io a questo punto passerei al secondo argomento, e ogni tanto mi vedete guardare a destra perché a destra ho un altro schermo e seguo la scaletta, vi ho mandato un video con dei compiti, diciamo così, in cui vi ho illustrato in questo breve video, in questo breve messaggio, due applicazioni, una che conoscevate già perché era Storybird, che avevamo già visto quando ci eravamo incontrati a Udine, una molto carina che è Storyjumper, adesso non ve ne parlerò, ve ne ho già parlato nel messaggio, era solo per dirvi che ho realizzato un video tutorial su Storyjumper in cui spiego sia i possibili utilizzi didattici che mi sono venuti in mente, perché poi ce ne sono tantissimi che senz'altro non mi sono venuti in mente, e poi come funziona questa applicazione, è molto interessante, potete quindi scegliere una di queste due applicazioni per eseguire questo lavoro, insomma, per il 2 maggio. Un'altra cosa che volevo invece mostrarvi ora era, vedete qui c'è scritto applicazioni di supporto nella mappa, volevo mostrarvi, la sto cercando ma non la vedo, ah no non la vedo perché non è un'applicazione da supporto, volevo mostrarvi Calameo, ecco serve per creare ebook, Calameo l'ho già aperto e adesso vi mostro come funziona. Ecco, questo è Calameo, la registrazione è gratuita, non penso sia neanche necessario fare un video tutorial perché è veramente semplicissimo, però prima volevo mostrarvi il risultato finale di Calameo, è molto carino, io qui ho trovato, vedete posso cercare, quindi ho scritto scuola e mi sono comparsi vari ebook, vari libri digitali già pronti, un sacco di POF, PTOF, eccetera, vediamo sto PTOF, così vediamo come funziona Calameo. Qui hanno messo una grafica molto carina, sono stati i colleghi dell'istituto comprensivo di Spoleto a creare questo sfondo, a inserire questo sfondo e questo è il libro, adesso lo guardo in modalità intera, cliccando qui in alto a destra e vediamo come funziona, ecco qua, clicco e come vedete è un libro vero e proprio, c'è una linea, una sorta di timeline, vedete io posso scorrere, vedere l'anteprima, mi fermo un attimo per esigenze di webinar e posso naturalmente andare alla pagina che voglio, ecco, per esempio vedete abbiamo immagini, testo, come hanno fatto a fare tutto questo? In realtà è estremamente semplice, posso continuare ovviamente a sfogliare, vedete anche l'effetto della pagina che si sfoglia, è abbastanza carino, torniamo su Calameo, come posso fare a, dicevo, ottenere questo effetto? Ebbene è molto carino perché io prima preparo un mio documento usando Word, usando LibreOffice, OpenOffice, usando il software di videoscrittura che voi siete soliti utilizzare e in cui sapete benissimo, io posso inserire testo, immagini, link, creare un indice, inserire note a piepagine, insomma posso editare un vero e proprio libro, grosso modo, anche con Word. Una volta che ho terminato di lavorare, meglio se prima trasformo il risultato da Word, da OpenOffice in PDF e una volta che ho il file PDF guardate cosa faccio, clicco su pubblica e semplicemente seleziono o trascino un file, io ne ho preparato uno, seleziono e trascino un file, vedete io lo sto trascinando, rilascio e a questo punto posso pubblicare. Adesso gli dico di pubblicare ora, come vedete devo dare un titolo, inserirlo in una cartella tra le tante che ho, io ne ho una sola, dare una descrizione, qui inserirò una descrizione, ma adesso lasciamo stare, non renderò visibile a chi voglio io, ma adesso, magari poi faccio un video tutorial, ma non mi sembra sia il caso veramente semplice e clicco pubblico ora, vedete adesso sta elaborando e il risultato, in questo caso ho già pubblicato qualcosa, sta lavorando, adesso poi andremo a vedere, ah ecco dovrebbe aver finito e vediamo un po', questa è una presentazione di niche che io ho preparato per i miei ragazzi che ho usato ora, ho scelto questa perché è molto complicata dal punto di vista grafico, perché ho usato tutti questi simboli e segni strani, vedete in realtà è una sorta di presentazione e vedete è stata trasformata correttamente, io la conosco, ho trasformato in modo estremamente corretto la mia presentazione, che sono quattro pagine in un ebook, vedo che c'è una domanda, ma io non so perché non riesco a visualizzarle bene, è una domanda molto lunga e non riesco a leggerla, sì ci sono quasi sempre le inserzioni pubblicitarie, mi chiedono se ci sono le inserzioni pubblicitarie e però dobbiamo anche farcene una ragione, queste aziende, queste start up devono guadagnare, non è che possiamo avere tutto gratis, certo questo è un discorso molto complesso, i ragazzi sin da bambini sono sottoposti alla pubblicità, però se vogliamo usare queste applicazioni dobbiamo o pagare e poi abbiamo la pubblicità, quasi sempre vedete qui sotto c'è una pubblicità vola l'urde, in genere è così, questa però vedete la mia home page di Calameo, qui pubblicità non ce n'è, la pubblicità arriva nel momento in cui io pubblico qualcosa e qualcuno la guarda, non c'è per il momento una soluzione, le cose gratis non ci sono e questo so benissimo che comporta però dei rischi e dei pericoli, per non avere pubblicità bisogna pagare, a volte anche poco ma occorre pagare. Dunque questo è Calameo, c'è una domanda molto lunga che ho difficoltà a leggere, a cui risponderò, non riesco ad allargare la finestra e quindi non so, non riesco, vediamo, ah ecco ci sono riuscito, sono molto stupido, dunque mi interrompo un attimo per rispondere a queste domande, allora la prima domanda me la fa, non vedo chi, Manuela Gambino, per sapere, dunque gli alunni creano i disegni, le didascalie, i fa l'audio e caricano tutto sul programma. Sì, esatto, gli alunni inseriscono il testo, gli alunni possono registrare anche la loro voce che racconta, molto bello da quel punto di vista e anche, mi pare, Cristina poi mi chiede qualcosa sull'uso della lingua, chiaramente quindi possono usare anche il dialetto, il sardo, il friulano o il dialetto che si utilizza dalle vostre parti, registrando vocalmente, possono inserire naturalmente anche file audio già predisposti, prima vogliono una colonna sonora, ecco non mi ricordo quello a dire il vero, non mi ricordo se si può inserire sotto di jumper una colonna sonora o bisogna utilizzare le colonne sonore che vengono date, che non me lo ricordo francamente, lo dico nel video tutorial, ma ora in questo momento non lo ricordo. La domanda di Cristina Molono è molto lunga, risponderò in seguito. Sì, ISU è tipo Calameo e forse non ha pubblicità, io però preferisco Calameo, ISU è comunque molto simile a Calameo, ma io poi ognuno ha le sue opinioni, io ripeto non ho niente contro la pubblicità, aprivo nei miei video, io nei miei video tutorial, l'avrete visto, c'è pubblicità, non metto la pubblicità solo quando i video che pubblico sono video dove ci sono i ragazzi o comunque sono video fatti dai ragazzi, allora non metto la pubblicità, ma nei miei video la inserisco. Bene, c'è Angela che chiede qualcosa e poi riprendiamo. Ah sì, sta rispondendo Angela a Sabrina, penso, grazie per la collaborazione. Bene, voglio farvi vedere adesso, non ho idea di quanto tempo si è passato perché non riesco a tenere tutto sott'occhio, però basta guardare l'ora, abbiamo ancora una 25 minuti e quindi dovrei riuscire a farvi vedere delle applicazioni molto importanti, più che delle applicazioni, chiedo scusa, un servizio o delle utilità molto importanti. Chiudiamo Calameo. Ecco, qui vi ho messo in applicazioni di supporto dei siti da cui possiamo prelevare delle immagini gratuite, o per meglio dire delle immagini che vengono rilasciate o per un uso proprio libero, completamente libero, oppure con la licenza CC Common Creative, una licenza che ci dà la possibilità di utilizzare le immagini tranne che a scopi commerciali, ci sono vari tipi di licenze Common Creative, insomma, dobbiamo accertarci che la licenza con cui viene rilasciata un determinato documento, una determinata immagine ci dia la possibilità di utilizzarla liberamente, in genere ci si chiede soltanto di citare la fonte. Io per esempio tutto quello che pubblico, anche i miei video tutorial, anche le presentazioni, anche le lezioni, le pubblico sempre con la licenza CC e do il permesso a tutti non solo di usarle, ma anche di modificarle, l'unico permesso che non do è di utilizzarle a scopo commerciale, anche perché insomma ci sarebbe poco da utilizzare. Bene, prima di mostrarvi questi siti, vi mostro Google, ecco, se io cerco il cappuccetto rosso, voi sapete benissimo che mi compare un menu in alto dove c'è scritto immagini, proviamo a cliccare su questo menu, magari già sapete queste cose, ma magari non tutti le sanno. Come vedete ho tante immagini, sapete bene che cliccando su una mi vengono proposte delle alternative, sapete anche, penso che posso o visitare la pagina in cui compare questa immagine o visualizzarla, se clicco qui visualizzerò l'immagine da sola, sapete anche, forse o forse no, che potete condividere o salvare questa immagine, la potete salvare in Google Photo, che è uno dei tanti servizi che Google ci offre, ma adesso torniamo alle nostre immagini, quindi visitare la pagina, visualizzare l'immagine o salvarla addirittura in uno spazio online che Google ci offre, può essere utile anche questo, perché in questo modo io non ho bisogno di pennine e che sia a scuola, che sia a casa, che sia da qualsiasi altra parte, posso collegarmi alle mie immagini. Bene, vediamo un'altra cosa però, notate questo pulsante, è un pulsante estremamente utile, se clicco qui sul pulsante strumenti posso raffinare la mia ricerca, per esempio per dimensioni, per esempio in genere a me servono immagini molto grandi, allora o clicco su immagini grandi oppure addirittura posso selezionare maggiori di, per esempio maggiori di 1024x768, è la risoluzione praticamente i pixel in larghezza ed altezza dell'immagine, oppure posso addirittura specificare le dimensioni esatte, molto utile quando si cercano immagini è anche il menu colore, a volte per esempio ci possono servire immagini in bianco e nero o immagini trasparenti e posso per esempio dirgli di darmi immagini di cappuccetto rosso solo in bianco e nero, io lo faccio spesso perché faccio colorare a mio figlio questi disegni, a 7 anni gli piace molto colorare e non gli piace molto la pixel art, come si chiama, cioè colorare a quadratini a lui piace proprio, vediamo, controllo la vista se mi state seguendo, vediamo adesso il tipo, che tipo di immagini, in questo caso sono quasi tutti disegni o clip art, torniamo a colore, ecco qua, reattivo strumenti, tipo, volti, foto, ecco se clicco qui avrò foto, vedete che infatti ci sono delle foto, oltre che dei disegni, questa è una cappuccetto rosso un pochettino, ora la lasciamo stare e vediamo, quindi foto, naturalmente disegni, clip art, gif animate, vediamo questa, non l'ho mai selezionata, ma questa è quella che ho scelto io, alcune di queste sono animazioni, si muovono. Bene, vediamo adesso quello più interessante, i diritti di utilizzo, vedete che qui ho i diritti di utilizzo delle immagini, quindi io normalmente cerco immagini contrassegnate per il riutilizzo non commerciale, però ci sono altre possibilità, possono essere immagini contrassegnate per essere riutilizzate apportando anche modifiche, cioè chi me le rilascia, come faccio io per esempio, mi dice che non posso usarle per scopi commerciali, ma che posso usarle per scopi solo non commerciali riutilizzandole e modificandole, queste sono solo riutilizzabili, non le posso modificare, queste possono essere riutilizzate per scopi non commerciali con modifiche, quindi insomma ho varie possibilità, per esempio se clicco qui per il riutilizzo non commerciale, mi dice addirittura che non c'è niente, non è possibile, cappuccetto rosso, non mi dà la possibilità, è strano, comunque proviamo a rivedere, ecco è contrassegnate per il riutilizzo non commerciale, quindi tutte queste immagini io le posso utilizzare liberamente, vedete è abbastanza interessante, bene, questo è, ci sono anche altri strumenti, insomma poi basta frugare, ve ne dicono solo, supponiamo che a me piacciono particolarmente queste immagini, guardate cosa posso fare, però devo essere su Google Immagini mi pare, quindi sono su Google Immagini, a cui si accede cliccando dal menu su Immagini o direttamente digitando Google Immagini sul menu di ricerca, guardate cosa succede, se rilascio l'immagine qui mi cerca immagini simili e mi dà anche un'ipotesi, in questo caso Gustavo Dore di Vina Commedia non ci siamo, non ci ha azzeccato, però guardate, clicco sulle immagini simili che ha trovato e in effetti ha trovato delle immagini abbastanza simili come tecnica di esecuzione e in effetti rimangono quasi tutti a Gustavo Dore, quindi può essere interessante se io ho un quadro o un tema cercare anche trascinando l'immagine come ho fatto io, ma adesso andiamo a vedere Pixabay, spero si pronunci così, dove troviamo invece immagini liberamente utilizzabili, vi mostrerò solo Pixabay perché non c'è tempo, comunque molto semplice, clicco e accedo al sito, io in questo caso come vedete mi sono registrato, la registrazione è gratuita e quindi posso salvare le immagini che mi piacciono, creare cartelle, farei vere cose, come posso cercare? Bene, il menu come vedete è estremamente semplice, cerchiamo per esempio cappuccetto rosso e poi selezioniamo qualche opzione, foto, immagini vettoriali, illustrazioni, video, l'orientamento mi chiede, mi chiede anche la categoria, io adesso lascio tutti, mi chiede anche una larghezza, un'altezza e una larghezza minime dell'immagine che voglio, se devono essere bianco o nero, insomma praticamente quasi tutte le stesse cose, ingrandisco un po' così vedete meglio, che mi chiede Google, lasciamo così tutte le immagini, quindi tutte le opzioni, clicco e come vedete mi compaiono queste immagini, sono tutte immagini liberamente utilizzabili, se clicco su una di queste immagini, vedete, posso anche scaricarla da un load gratuito, posso mettere un mi piace, posso condividerla, posso inserirla tra le mie preferite e così tornarci, posso anche salvarla, posso seguire la persona che ha pubblicato questa foto e l'ha resa disponibile, il download è gratuito, vedete, posso anche scegliere con quale risoluzione, avvio il download ed è fatta, se non siete però logati, cioè se non siete registrati e quindi siete degli utenti e visitatori, dovete digitare un codice mi pare, per dimostrare di non essere dei robot, ma potete comunque scaricarla lo stesso, io ho preferito registrarmi a questo sito. È molto importante, anche rispetto al discorso che facevamo sul diritto d'autore, è molto importante assicurarsi di quando si pubblica qualcosa in cui di mezzo c'è la scuola, ad un certo livello, perché se pubblichiamo, io spesso, insomma quando pubblico cose riservate sulle mie alunni, me ne infischio anche un po', quindi gli metto una carta geografica che ho scannerizzato dal libro, cosa che non potrei fare, però ecco, quando pubblichiamo un articolo sul nostro blog che vuole essere serio, allora è meglio se vogliamo pubblicare un'immagine, per esempio, su cui c'è il copyright, il diritto d'autore, che contattiamo il sito in cui è pubblicata per chiedere il permesso, io l'ho fatto spesso e devo dire che sempre ho trovato persone gentilissime che mi davano l'autorizzazione senza problemi, purché citassi ovviamente l'autore e il sito da cui era presa l'immagine, solo quando ho avuto a che fare con musei e istituzioni pubbliche ho trovato sempre persone cordialissime, ma c'era da compilare una modulistica e la cosa risultava leggermente più macchinosa, non bastava che mi dicesse che si pubblica pure, però è anche giusto perché bisogna dimostrare di aver avuto il permesso, eccetera. Gli altri siti sono simili, Free Image vi dà la possibilità ugualmente di cercare tra oltre 400.000, in questo caso sono foto e illustrazioni, vedete che anche qui posso accedervi registrando e in italiano è molto utile, ci sono icone, ci sono foto, ci sono disegni, spesso ci sono anche video, adesso questa in particolare non lo conosco, questo sito, e ce ne sono tanti altri, io vi ho messo quelli che mi è sembrato siano i più semplici da usare e i più ricchi di immagini, naturalmente potete anche scattare foto voi di un paesaggio, di un oggetto, oppure far disegnare ai bambini e scattare la foto e acquisire il disegno come foto, meglio ancora acquisire il disegno attraverso uno scanner che ci dà la possibilità di acquisirlo in modo molto più esatto. Bene, se avete domande sulle immagini, io do un attimo un'occhiata, qui non c'è niente e quindi io andrei avanti, sto sempre registrando, vero o sì? Scusate ogni tanto io do un controllo per vedere che tutto funzioni regolarmente. Come ultimo argomento volevo mostrarvi un'altra applicazione, un'applicazione che ho chiamato, se faccio in tempo anche un'altra ancora, un'applicazione di supporto, questa volta di sicuro, che è StoryMap. StoryMap è veramente molto carina, io ho fatto un video tutorial abbastanza lungo, anche se è semplicissimo, e ne sto preparando un altro, sempre per voi e per chiunque naturalmente, perché i miei video tutorial poi sono disponibili a tutti. Su StoryMap clicco per farlo vedere. Dunque ci troviamo nella pagina di uno dei siti più ricchi di applicazioni per bambini di tutte le età e per studenti, chiedo scusa, di tutte le età, ingrandisco un altro po', si chiama Read, Write, Think. Leggi, scrivi e pensa. È supportato da tutta una serie di istituzioni che hanno come obiettivo la diffusione delle competenze comunicative, in particolare della scrittura. Della scrittura in tutte le sue forme, in tutti i suoi generi, argomentativa, narrativa, poetica e così via. In questo sito ci sono decine, forse centinaia di piccole applicazioni, estremamente utili anche per lo storytelling. Vi mostro adesso questa che si chiama StoryMap e permette molto semplicemente di creare una sorta di mappatura della storia, di storyboard, anche se non è un vero e proprio storyboard, di canovaccio, possiamo chiamarlo così. Basta cliccare qui, non c'è bisogno né di essere registrati né di nient'altro, spero vediate bene, io ingrandisco più che posso. Diamo un titolo al nostro progetto di storia, chiamiamolo Cappuccetto Rosso, ormai io sono monotematico, by il lupo cattivo. Ecco qua. Vedete che abbiamo quattro possibilità, poi nel video tutorial lo spiego bene, adesso vi mostro solo la mappa dei personaggi, ma posso creare la mappa del conflitto, la mappa della risoluzione e del setting della scenografia. Vediamo la mappa del personaggio, guardate è molto semplice, però è utile. Come si chiama il mio personaggio? Per esempio Cappuccetto rosso. Clicco su invio, primo riquadro, quali sono le caratteristiche del tuo personaggio, qui scriverò le caratteristiche del mio personaggio, caratteristica 1, caratteristica 2, eccetera, eccetera. Poi mi chiede, che cosa fa questo personaggio? Le azioni del personaggio? E così via, adesso mi chiederà come gli altri personaggi della storia reagiscono o interagiscono con questo personaggio, gli altri. Ecco qua, a questo punto potrei anche aver finito, naturalmente io qui non ho scritto niente e naturalmente dovrò fare questo lavoro per ognuno dei personaggi della mia storia. Posso a questo punto stampare. Che cosa mi chiede? Beh, ho fatto solo questo, quindi stampo solo questo. Andiamo al prossimo passaggio e gli dico stampa. Vedete, altro non è che è un foglio. Ora, ovviamente noi possiamo con Word fare qualcosa del genere, però questo è utile perché ci guida in modo abbastanza chiaro, efficace, rapido, attraverso la creazione del personaggio. Ovviamente poi posso preparare anch'io un modello, un modulo cartaceo con Word che abbia, per esempio, questo tipo di conformazione che quindi aiuti i miei studenti a... Adesso vi mostro un'altra, dalle decine di applicazioni, si chiama Cube qualcosa, vediamo se me la dà, cercando qui. BioCube dovrebbe essere questo. Questo è ancora più carino, BioCube. Cominciamo con BioCube, poi darò un'ultima occhiata alle domande, ovviamente. Ecco, questo è BioCube, guardate che carino. Posso creare la biografia di un personaggio, oppure posso creare l'intreccio, la struttura di un romanzo o racconto del mistero, di un giallo, o di una storia in generale, o creare il mio cubo. Vediamo cosa si intende. Vi faccio vedere il BioCube. La biografia di un personaggio, certo, entriamo, chiedo scusa, inseriamo un nome, Pippo, e andiamo avanti, scegliendo il BioCube. Vedete come funziona? Ecco, qui di chi stiamo parlando, come si chiama il nostro personaggio, Pippo, per esempio. In che periodo siamo? Indefinito. Il luogo? Topolinia, o Topolinia, non ricordo mai l'accento dove cade, andiamo avanti. Quali sono i più importanti eventi nella vita di Pippo? Scriverò evento 1, evento 2, evento 3 e così via. Quali sono le caratteristiche della sua personalità? È simpatico, è ingenuo, eccetera. E così via. Adesso io scrivo a caso, altrimenti ci mettiamo un sacco di tempo. Quali ostacoli incontra Pippo in questa sua avventura? Una citazione di Pippo, una frase di Pippo, una o più frasi che Pippo pronuncia. A questo punto, posso rivedere quello che ho scritto, ovviamente. Che cosa è significativo e importante? Qui mi chiede. Quali ostacoli incontra Pippo, eccetera. Diciamo che ho finito e che voglio stampare. Come vedete, qui otterrò alla fine, dopo la stampa e dopo che avrò ritagliato, otterrò un cubo, qui c'è scritto appunto ritagliare lungo la linea continua e piegare lungo la linea tratteggiate, incollare, otterrò un cubo con tutti i dati del mio personaggio. Molto carino, avrò tanti cubi, alla fine uno per ognuno dei personaggi. Mi è piaciuto molto questa applicazione e quindi farò un video tutorial, anche se insomma è molto semplice. Dunque, qui mi chiedono, vediamo alcune cose, adesso scusatemi se non vedo tutte le... ma ecco, perché è meglio con lo scanner? Beh, perché fotografare un disegno con uno smartphone è molto complicato, bisognerebbe in realtà disporre lo scanner in modo che sia perfettamente perpendicolare con l'immagine e l'immagine non venga un po' storta. Inoltre con lo scanner abbiamo la possibilità forse di impostare e configurare lo scanner in modo da acquisirlo in varie risoluzioni, a scala di grigio, a colore, mentre se io faccio la foto di un disegno poi devo magari ritoccarla. Certo, è molto semplice, io preferisco comunque un disegno, metterlo nello scanner, passarlo e acquisirlo come disegno, in genere mi viene meglio, quando invece provo a fare la foto di un'immagine viene tutta storta, perché non riesco a mettere in modo perfettamente parallelo e perpendicolare all'immagine lo smartphone, lo smartphone è sempre un po' piegato, non è mai perfettamente dritto, ci vorrebbe una di quelle macchine, insomma è un po' complicato, però se non sia niente di meglio va benissimo anche lo smartphone naturalmente. Dunque l'ultimo argomento che volevo trattare ora, ci sono qualche minuto di recupero perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, riguarda il problema dell'information overload su cui tornerò, il sovraccarico informativo, c'è troppo in rete, però non trovo il programma, ecco qui, forse qui, ah l'istango, non so come si pronunci, ma io l'istengo o qualcosa del genere, ecco qua, ho la luce che vi impediva di vedermi bene, non che ci sia granché da vedere, no chiedo scusa, l'istengo, clicco, che cos'è l'istengo? È quello che un tempo si chiamava applicazione per il bookmarking, per la raccolta di bookmark, di segnalibri, io sono su un sito per esempio, poniamo che io sia qui, e voglio salvarla questa pagina, voi sapete che, non so se voi navighiate molto, io navigo parecchio, visito decine e decine di siti al giorno, come ce li segniamo? Ecco, a volte, certo c'è anche la possibilità di ricercarli nella cronologia o di inserirli direttamente su Chrome, tra i segnalibri di Chrome, ma io non lo uso più, clicco su questo, se vi tu li stango, su questo pulsante e mi dice in quale cartella vuoi salvarlo, perché si possono costruire cartelle in modo molto semplice. Bene, chiedo scusa, era mia moglie che chiamava, fra un po' la richiamo, bene, dicevo, scegliamo per esempio una cartella applicazioni web, salvato, a questo punto io avrò nella mia cartella applicazioni web, vedete, cappuccetto rosso, eccolo qui, ce l'ho salvato, tutte queste sono le cartelle, qui c'è un segno perché questa cartella a sua volta si divide, comprende dentro di sé una sottocartella chiamata presentazioni, per esempio la cartella didattica comprende al suo interno tutta una serie di sottocartelle e dentro queste sottocartelle io posso inserire altre cartelle ancora, in modo da dare una struttura piramidale di cartelle incapsulate dentro cartelle e l'utilità di questo sta nel fatto che così posso, quando ho 100, 200, 2000 segnalibri, posso avere qualche speranza di ritrovarli se sono ben sistemati. Scusate, c'è un'emergenza, se aspettate un secondo, mia moglie è rimasta chiusa fuori casa, torno fra dieci secondi. chiedo scusa, tutto a posto, mi ha sgridato per quello che stava chiamando. Bene, usarlo è semplicissimo, abbiamo visto come inserire un link, basta che voi, nel video tutorial è spiegato come fare, che voi installiate questo pulsante, semplicissimo, basta cliccare il pulsante al momento della registrazione e potete usare il pulsante per salvare sull'istengo tutto quello che volete. Adesso io lo salvo per esempio qui, applicazione web. Per costruire le cartelle è semplice, ma sì, è molto semplice. Per esempio, io sono in applicazioni web, poniamo, vedete che qui ho un menu, posso aggiungere segnalibri, aggiungere una sottocartella, una sottolista, qui la chiama, editare la lista, l'ho chiamata applicazione web, posso cambiare, posso inserire una descrizione, così so cosa c'è lì dentro, posso anche metterla dentro un'altra cartella, adesso non lo farò, insomma sono operazioni abbastanza elementari. Io uso questo perché è molto rapido, molto semplice, mi dà la possibilità di inserire cartelle dentro cartelle, immaginate che state facendo un lavoro di ricerca per realizzare una storia, per esempio un fumetto. Ho visto che qualcuno mi ha chiesto, sì mia moglie è entrata Sabrina, qualcuno mi ha chiesto qualcosa, non in questo webinar, a proposito delle immagini, mettiamo che io stia costruendo una storia, mi servono molte immagini, ebbene potrò costruire dentro la mia cartella storytelling, per esempio il titolo della storia, per esempio cappuccetto rosso, dentro la cartella cappuccetto rosso metterò una cartella immagini, dentro la cartella immagini metterò una cartella immagini di cappuccetto rosso, immagini del lupo, immagini della nonna, per esempio. Bene, allora, la comodità è evidente, certo se uno non ha questa esigenza perché non naviga tanto, allora è del tutto inutile, purtroppo per noi la nostra vita si sta trasferendo sempre più online, anche la nostra attività, l'insegnamento si sta trasferendo sempre più online, quindi può essere utile usare uno strumento del genere, poi magari non vi trovate bene, ci sono tanti altri strumenti che hanno lo stesso scopo ma caratteristiche differenti e magari passate a un altro strumento, io lo sto sprovando da circa un paio di mesi e mi sta bene. Bene, direi che possiamo terminare, io vi saluto, se avete qualche domanda, io vedo che ci sono delle domande, spero di aver risposto a quasi tutte, c'è una molto lunga e quindi la leggerò con calma e vi risponderò a parte, magari su Edmodo. Quindi vi ringrazio, potete pure scollegarvi, interrompo anche la registrazione, lo avrete a disposizione il webinar quanto prima. Bene, ho interrotto la registrazione, spero bene, e ciao a tutti. Voglio salutarvi, ecco, ciao a tutti e grazie per la pazienza e per gli incidenti di percorso. Direi che dal punto di vista tecnico è andata abbastanza bene. Massimo, ci sei? Sì, ci sono, sto rispondendo a una domanda. Mi hanno chiesto per montare un breve video, direi che Movie Maker è il più semplice. Sì, infatti io darò quell'indicazione, perché è il più semplice comunque, anche se non è molto raffinato, ti dà la grammatica del video editing, c'è tutta, insomma, tutte le cose più importanti che possiamo far fare ai ragazzi, io glielo faccio usare. Poi, no, non vorrei aver dato un'indicazione sbagliata, magari mi hanno chiesto per fare software per animazioni, cartoni, io gli ho detto Scratch, forse è dopo avanzato. No, Scratch arrivi a quel rispetto. Ti ho perso un secondo. Ecco, ecco, sei tornato. Poi non sento l'audio. Ecco, ecco, ci sei, ci sei. Ha fatto tutto da solo, io non ho cliccato niente. Dicevo, Powtoon, ce ne sono tanti. Sì, sì. Quello fosse più semplice. Sì, se vuoi arrivare a un certo livello, devi comunque pagare, capito? Va bene, Massimo, io mi sa che stacco, come si fa a chiudere, che non ricordo. In alto sinistro dovresti avere Terminal Webinar. Esatto. Io ormai mercoledì invierò perché dove abito problemi di internet, per cui ho lavorato torno mercoledì e invio le registrazioni a tutti. Mi sembra sia andato bene, insomma. Sì, dal punto di vista tecnico, a posto? C'è stato un secondo, quando sei scomparso all'inizio e poi perfettamente fluido, anche dove sto ascoltando io che c'è un internet pessimo, per cui... Ah, mi fa piacere, mi fa piacere. Ok, dai, ciao Massimo e grazie, io termino. Ciao.